Dov'è Beatrice? Chi sono quelle genti? Surgi, sorgi, che fai? Dov'è Beatrice? Chi sono quelle genti? Surgi, sorgi, che fai? A che? A che? E come tu è? Dov'è Beatrice? Dov'è Beatrice? Dov'è Beatrice? Chi sono quelle genti? Chi sono? Chi sono quelle genti? Chi sono quelle genti? Nel mezzo del cammino incominciano le dolenti note. Lasciate ogni speranza voi che trate. 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 Lasciate ogni tanto voi che trate. Lasciate ogni eccessino violente, Sospiri tremanti nella piova maledetta, fredda e grego. Sospiri tremanti nella piova maledetta, fredda e grego. Sospiri tremanti nella piova maledetta, fredda e grego. Sospiri tremanti nella piova maledetta, fredda e greca, per l'aere eterno e tenevroso, chi sono quelli gentili? Chi sono? Chi sono quelli gentili? Chi sono? A chi è? 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 Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Noi, noi leggevamo un giorno per diletto, soli eravamo e senza alcun sospetto. Quando leggemmo il disiato riso, esser basciato da cotanto amante questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò, tutto tremando. D'alle otto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non mi leggemmo avanti. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sì che di pietare cadi come corpo morto, cade. Sì che di pietare cadi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.